Ciao ragazzi, siamo Imi e Sapia, siamo qui nel Bosco di Celano, tra poco vi faremo vedere il nostro video adesso che finirà il montaggio, quindi finiremo di sistemare le riprese, ve lo faremo per vedere spero che vi piaccia, per chi non ci conosce siamo un gruppo rock di San Pietro Pernodico abbiamo una pagina Facebook, quindi chiunque volesse seguirci, a chiunque volesse interessare la nostra musica partiamo col dire che non siamo assolutamente una cover band, siamo una rock band, una band di inediti quindi che fa musica, tentiamo di fare rock, a questo proposito vorrei salutare la nostra prima persona che ci ha registrato questo primo medito, che è Andrea Barbaro, che ha il studio di registrazione a Brindisi, Rock Inside io vorrei ringraziarlo e vorrei salutarlo, ciao Andrea Ciao Andrea, come dici tu, Ninfa non è una canzone rock, però noi cerchiamo di farla, cerchiamo nelle prossime canzoni di non deluderti quindi siamo qui nel Bosco di Cerano, come vedete questo splendido paesaggio splendido paesaggio come sapete rovinato poi dalla centrale di Cerano che si trova alle nostre spalle comunque nonostante lo schifo umano, questo è un bellissimo paesaggio noi abbiamo deciso proprio di fare qui il video perché innanzitutto si sposa bene con il testo della canzone infatti Ninfa, la Ninfa dei Boschi, quindi il Bosco di Cerano quindi questa è la prima cosa seconda cosa, noi abbiamo voluto scegliere il Bosco di Cerano perché rappresenta il nostro luogo quindi anche il nostro nome della band, quindi Messapia rappresenta al meglio il nostro territorio quindi noi abbiamo voluto rendere omaggio a questa terra facendo il nostro primo video qui quindi, scusate perché io sto vedendo degli sbirri passare comunque, stavo dicendo a noi piace questo posto, per questo abbiamo scelto di fare il video qui di rigirare tutte le scene che voglio dire altro, ragazzi, speriamo che vi piaccia continuate a seguirci, la nostra canzone come 500 di voi già lo sanno è su Youtube scusate, quindi per chiunque volesse ascoltarla basta scrivere Ninfa e Sapia per adesso perché una volta che realizzeremo il video lo metteremo nelle prime pagine, quindi come video di risposta quindi sarà più presente che dire ragazzi, io vi passo la parola al chitarrista, poi al batterista, poi al bassista se volete dire qualcosa, di presentare questo video, cosa volete dire? vi consiglierei solo di seguirci, visto che noi ci proviamo, ci divertiamo e poi infine voglio ringraziare la ragazza che si è offerta di fare la nostra Ninfa da virgoletta, Federica, che la salutiamo da Federica e il nostro regista, Cristian se il maestro vuole dire qualcosa, non so non ho niente a dire il maestro è sempre quello che sta dietro, però come si dice, quando non i primi quando manca si sente, però quando manca si sente il maestro si sente la mancanza delle sue sante mani, quelle sue bacchette che rompe tutto poi c'è il bassista non so se lo sapete, ma lui deve essere anche parento, figlio segreto di Flea Sì anche i capelli guardate il cantante delle due chili peppers è il cantante che ha copiato lui, non lui che ha copiato il cantante è il cantante, è il cantante, è il cantante Andrea lo desoliere mettete mi piace alla pagina di facebook e seguiteci su youtube stay rock stay rock stay rock ragazzi